Ben ritrovati da Simone Nardone, un appuntamento con l'informazione locale di Radio Civita in blu. Ancora nuovi positivi al covid riconducibili all'inche epidemiologico di Formia. Dopo la prensione dei giorni scorsi si continua ad indagare per cercare di ricostruire la rete di contatti che può aver dato via ai contagi da nuovo coronavirus. I contagi che stanno preoccupando in particolar modo Formia e Gaeta, ma non solo, tutto il golfo. Il sindaco di Formia, Paola Villa, intanto ha chiesto che il drive-in posto in quel di Formia in questi giorni diventi fisso per tutti i cittadini del sud pontino. Formia, possibile zona rossa, scatta una denuncia per procurato allarme. Nei giorni scorsi, infatti, un tantam sui social e su WhatsApp aveva portato un blogger locale ad allertare gli utenti del rischio che, alla luce di eventuali nuovi positivi riscontrati, il prefetto sarebbe stato in dubbio se procedere ad istituire la zona rossa. Alla fine, nient'altro che una fake news, da prima contestata, poi segnalata e, infine, la denuncia per procurato allarme, resa nota direttamente dalla questura di Latina. È stata ritrovata a Napoli la donna di 45 anni scomparsa dalla provincia di Latina lo scorso 11 agosto, di cui avevamo parlato anche noi all'interno delle edizioni del GR locale. Doveva prendere un treno dalla stazione di Formia per rientrare a casa, ma lì non era mai arrivata e dunque erano scattate le ricerche. All'epoca, a dare la notizia per cercare di aiutare le ricerche, era stata la trasmissione Chi l'ha visto, da cui è arrivata anche la notizia del ritrovamento in quel di Napoli. A Gaeta gli agenti della Municipale hanno individuato e sanzionato diverse attività commerciali del territorio che avevano abbandonato in strada e dunque sul suolo pubblico i rifiuti indifferenziati che potevano essere differenziati per di più in giorni non consentiti dal calendario. I titolari dovranno pagare le sanzioni previste dalle ordinanze comunali in vigore. Le aree dove sono stati ritrovati i rifiuti sono state pulite e bonificate. 17 indagati tra politici, funzionari ed imprenditori nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Cassino su una serie di presunti appalti pilotati. Nomi eccellenti tra i soggetti destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, tra i quali l'ex sindaco del PD di Formia, Sandro Bartolomeo, che ha dato notizia della circostanza direttamente dalla propria pagina Facebook anticipando anche i media. Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 seggi aperti in tutta Italia per il referendum confermativo costituzionale, quindi senza quorum sul taglio dei parlamentari. Ma il 20 e 21 settembre si vota anche per le elezioni del sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale a Fondi, 6 in corsa per la fascia tricolore a sfidare l'attuale vice sindaco facente funzioni Beniamino Maschietto, l'ex primo cittadino Luigi Parisella, ma anche Ragnero De Filippis, Giulio Mastro Battista, Francesco Ciccone e Giuseppe Manzo, in tanti, per prendersi uno dei 24 posti anche in Consiglio Comunale. Sul Rai 1 torna questa sera il programma tale quale show arrivato alla sua decima edizione. Saranno in gara 5 donne e 5 uomini. Tra questi ci sarà anche una persona molto conosciuta sul nostro territorio, ovvero Virginio Simonelli, cantautore di Fondi e vincitore di Amici nel 2011. Virginio sarà giudicato da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarci, come sempre, vi ricordiamo che potete iscriverci su WhatsApp al 348-888-1447 o, se preferite, Radio Civita in Blu, ghiaccio a gmail.com. Un saluto da Simone Nardone e un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze. Grazie. Grazie.